Pensate al sogno di una casa nuova. Per chi lo vede un progetto lontano, provi a pensare ai colori che sceglierebbe, alla luce delle stanze, agli oggetti che porterebbe con sé dal passato al futuro. Per chi una casa nuova invece già l'abita, provi a ricordare la fatica per realizzarla, le indecisioni nelle scelte, lo stress, ma anche tanto futuro. Bene, per me una casa nuova è stata un vero e proprio sogno, ma da un altro punto di vista. Quel mattino ero passato in ospedale per un controllo. Non dormivo da settimane. Avevo un dolore che premeva sul polmone e faticavo a respirare, non sapevo cosa fosse. I medici non ebbero il coraggio di dirmi che forse il tumore era tornato. Così mi lasciarono andare a casa, ma io non volevo andare a riposare. E andai a quell'appuntamento immobiliare che avevo fissato. Entrai un ufficio pieno di mobili antichi, fascicoli, cartoni, poca luce e immaginai la casa che avrebbe potuto diventare cambiando i colori, spostando alcuni mobili per allargare la stanza e cominciare a sognare. Non so se avrei scelto quella casa in condizioni diverse, ma era l'attività più concreta nella quale potesse investire la mia mente. Dal giorno dopo ero in ospedale. Nessuno parlava di se sarei tornata a casa. Nemmeno io. Conoscevo il mio tumore da 14 anni. È un tumore raro. È un tumore che attacca il mio sistema nervoso. È lento. Reagisce bene alla chirurgia, molto meno bene, alla radio e alla chemioterapia. Ero stata operata tante volte al gluteo, polmone sinistro, polmone destro, sempre operata. Questa volta era la pleura. La pleura sono due strati sottili di membrana con in mezzo un sottile filo d'acqua. Solo che io questa volta di acqua ne avevo più di quattro litri. Per questo comprimevano il polmone, il cuore e il diaframma. Proprio io che mai volevo che nessuno mi nascondesse niente sul mio tumore. Io che nei momenti più delicati ero andata dai medici da sola per paura che i miei familiari mi nascondessero qualcosa. La sentenza era drammatica. Non ero operabile. Sapevo tutto, ma questa verità non mi permetteva di fare nulla. Così decisi di cambiare punto di vista. Rientrare in quella casa. Era l'ultimo barlume di vita prima della notizia. Così chiamai l'immobiliarista, mi feci portare una piantina e cominciavo a cancellare i muri, allargare le stanze, aprire le finestre, togliere le tende nella mia testa di notte quando non dormivo, cioè quasi sempre. E cominciavo a metterci i colori. Quante emozioni nuove. Perché la casa era altro rispetto alla mia storia. Ma non era sufficiente. Dovevo cambiare di nuovo punto di vista. I miei familiari ce la mettevano tutta. Giocavo a carte con mio padre, nel silenzio. Ma le loro facce erano la mia storia. Era la nostra storia familiare. Per fortuna c'erano i miei nuovi compagni di quella stanza, i medici e gli infermieri. Ogni giorno venivano da me e insieme costruivamo la strategia per andare al giorno dopo. Avevo cinque cicli di chemio davanti. Il massimo che un essere umano può fare per non rimanere avvelenato. Nel mio caso specifico. Ma non pensavamo ai cinque. Giorno per giorno. Ricordo un giorno, il più doloroso della mia vita, lì in ospedale. Avevo fatto la seconda chemioterapia. E il mio corpo aveva reggito malissimo. Non riuscivo a ragionare. Vaneggiavo. Ricordo che tentavo di giocare a carte, ma non capivo come si facesse. Arrivò il medico, in fondo ai piedi del letto. Io ero stesa, familiare intorno, mi guardò e mi disse domani starai meglio. Stavo meglio il giorno dopo, ma in quel momento non gli credetti. Però lo guardai, gli feci un sorriso, per quanto potessi, e una pernacchia. La mia ironia era una richiesta d'aiuto. Ti sorrido, rispondimi. E lui mi fece una grande risata. Ricordo un infermiere la notte, quando non dormivo. Uno in particolare, giovane e bello, delicato, gentile. Gli chiesi perché fai un lavoro così doloroso. E lui mi raccontò che aveva perso la sua mamma così. E curando noi, curava un po' ancora anche lei. Non era sufficiente. Dovevo ancora cambiare punto di vista. Loro erano dentro alla stanza. Avevo bisogno di altre persone e altre vite. Così ebbi un'intuizione. Invitai i miei familiari ad andare a vivere le loro vite. Con altri lavori, altre persone. E poi venivano a raccontarmele. Però, avevo pensato di cambiare persone con me. Nelle notti, nel giorno. Persone che mi potessero portare tanta loro energia. E così, presi il telefono e cominciai a chiamare tutti gli amici. Amici, nipoti, giovani, fresche, idee. E risposero. Di giorno e addirittura coi turni di notte. Tenevo gelosamente questo foglio coi turni. Perché volevo controllare io, la persona che sarebbe venuta. Avrei cominciato a sentire la sua energia da prima. E a svilupparne il desiderio. Per non pensare al resto. Qualcuno veniva con una chitarra. Qualcuno con la sua voce a cantare gospel. Sapendo quanto mi piace il canto. E che significato di speranza ha per me. Qualcun altro mi raccontava i problemi con i figli. E io cercavo di immedesimarmi. E di dare un consiglio. Si erano messi nei miei panni. Erano momenti di grande gioia, amore, bellezza. Al punto che a volte ancora in casa, ora che sono tornata, dico che un po' mi manca quella stanza. Però io avevo un obiettivo particolare. Dovevo salvarmi. E quindi non era sufficiente. Dovevo di nuovo cambiare punto di vista. Io che conoscevo il mio tumore. In squadra, con i miei medici. Noi dovevamo passare dalle cose che sapevamo e conoscevamo di quel tumore a quello che ancora non si conosceva. Ma da qualche parte ci sarebbe stato, speriamo. E così iniziai a leggere, a studiare, di notte, su internet, cure innovative. E mi presentavo dai medici, dicevo, proviamo l'immunoterapia. L'immunoterapia consiste nell'armare il nostro sistema immunitario per combattere il tumore come se fosse un virus. Ma loro mi dicevano che non funzionava. E allora ancora cercare genomica. un sistema per analizzare i geni del tumore, non quelli con cui nasciamo tutti, quelli dentro al tumore. Trovare un gene mutato che con quella mutazione crea una proteina difettosa. I miei geni però erano stati esaminati otto anni fa, ero in un protocollo di ricerca con un nulla di fatto, cinque anni fa, tre mesi prima, perché ero stata in realtà operata anche tre mesi prima. E li avevano anche esaminati in quel momento, proprio in ospedale. Ma io insistevo, se questa è solo la strada che troviamo, proviamo di nuovo. Magari più geni, più opportunità. E così abbiamo fatto altri tre tentativi. Proprio all'ultimo è arrivata quella anomalia genetica, che in questo caso era una benedizione, no? Una cosa sbagliata l'ho scoperta. Perfetto. Una su 320. E aveva due medicine associate le cosiddette medicine jolly, che vanno bene su tutto. Su organi diversi, su tumori diversi. L'importante è che, qualunque sia il tumore, abbia quell'errore. e così io da quasi due mesi, da quasi due anni, scusate, sono curata con questa medicina, il tumore si è ridotto, non sono più quattro chili, ma si è seccato, e la pleura, tanta gioia, tante lacrime di gioia, amici, parenti, medici. Però, c'è un però, pochi mesi fa, a luglio, il tumore è tornato. Operabile, ma anche se non l'ho condiviso tanto, dentro di me, quanta paura, quanta frustrazione, quanto dolore, quanta rabbia. Dovevo cambiare di nuovo punto di vista. Prendere tutte queste energie negative, ma gigantesche, convogliarle nella benzina, di un motore che mi facesse ripartire. Ma ripartire per andare dove? Ancora operata. Nessuno mi poteva, né tuttora mi può convincere che questa sarà l'ultima volta, che non capiterà più. Sono domande che non hanno senso. Io dovevo ripartire partire col cuore e il cervello. E allora pensai a una battaglia che avevo lasciato in sospeso. La battaglia della disintossicazione, della dipendenza. Non se ne parla mai di questa cosa, ma i malati oncologici assumono così tante droghe, io prendevo più di un grammo di morfina che dipendono da queste medicine. Avevo tentato di fare quello che il protocollo medico dice, allungare il tempo di distanza tra una dose e l'altra, ma non ero mai riuscita a disintossicarmi del tutto. Così quel motore con quella energia ci ha provato. Bene, sono tre mesi che sono senza oppioidi. 90 giorni in cui mi sveglio al mattino, appena mi sveglio sento il fastidio, mi bruciano le labbra, sento il tremore, sento un desiderio incredibile di apprendere medicine. Poi mi alzo e se non svengo, perché la pressione è bassissima, prendo il pensiero e provo ad attivare la mia casa, la mia casa, le mie risorse e cerco di usarle per qualcosa di vivo. Ho capito che certe domande non hanno senso, non hanno più senso. Quando qualcuno mi dice come stai, io lo so che vorrebbero sentirsi dire bene, non faccio in tempo a rispondere che qualcuno mi dice sei così bella, sei così positiva, è ovvio che stai bene. In realtà non sto così bene. Però non mi interessa come non mi interessano in generale le domande o che non hanno risposta o che non costruiscono futuro. Le domande che mi interessano sono altre. Chi incontrerò oggi che non avevo programmato? Quale storia sentirò? Cosa leggerò o studierò per aprirmi la testa? ciò che può ancora appassionarci in qualsiasi condizione di salute, di vita o di lavoro è in prospettiva e riguarda anche voi. Non c'entra solo col tumore. Avete provato a girare l'angolo e a guardare la vostra vita da un altro punto di vista. con immaginazione con apertura agli altri col sorriso con un po' di ironia con fiducia con amore. Avete scelto la vostra casa il vostro punto di ripartenza quotidiano per riscriverla alla vostra storia perché c'è un futuro ma noi agiamo e diventa presente. I found the answer I learned to play in point of view every day with faith to guide me I found my way I found my way because the sun is shining for me each day I found the answer I learned to pray I learned to pray I learned to pray Grazie a tutti.